Di fronte a Napoli, Procida, isola di pescatori, pescatori della Corricella. La vecchia ricetta del pesce Fuyut racconta di un piatto al pesce, senza pesce, e già acqua, olio, aglio, prezzemolo, un poco di pomodorino fresco, poi quando prende il bollo una girata, una voltata e via il pesce, che si mangiava i giorni appresso, se c'era veramente, è chiaro, questa è la ricetta povera. Modena in mapezza e vi diamo quella ricca! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!